Virgilio Vincenzoni, attore teatrale, legge per Spoleto City un articolo della Costituzione italiana. Leggo il numero 125. Il controllo della legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato in forma decentrata da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere con richiesta motivata il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da Legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. Virgilio, tu sei spoletino, ma da parecchi anni manchi da Spoleto. Sì. Com'è cambiata la nostra città? Spoleto è sempre una gran bella città, però vedo, ogni tanto torno, poca aggregazione con i giovani. I giovani non hanno un posto dove dire sì, stiamo lì insieme. Li vedo bighellonare, scusate il termine, nei bar, per strada, in borgo, al corso. Però quando ero giovane io, e molti se ne ricorderanno, avevamo un posto ben stabilito dove passare le nostre giornate. I giardini. I giardini, quando i giardini erano i giardini effettivamente. Giardini Cicomendez, Parco Cicomendez. Sì, Parco Cicomendez, dove lì vedevi tutta la gioventù spoletina a divertirsi senza far del male a nessuno. Ci divertivamo nel puro senso della parola. Ma anche i giardini dello sport erano interessati? Sì, ogni tanto sì, c'era molta gioventù nei giardini dello sport. Però, ripeto, adesso non vedo più tutti questi giovani interessati allo sport, a sport ricreativi. Li vedo così, amorfi. Mi dispiace per la gioventù. Più che altro forse mancano i luoghi deputati per... Mancano i luoghi, a parte le varie discoteche che ci sono. Che mancano anche quelle. Mancano anche quelle, spoleto. Però in discoteca, prima noi andavamo a ballare alle nove, le una massima era a casa. Adesso escono a luna per fare la notte e poi dopo succede quello che succede. Virgilio, autorizzi questo video per Spoleto City? Autorizzo questo video.